Irama ha una nuova fidanzata. Dopo aver ufficialmente rotto con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Leonis, gli ultimi indizi suggerirebbero che sia proprio così. Irama si sarebbe già impegnato. La coppia ha chiuso dopo alcuni mesi in cui si mostrava felice sul social. A quanto pare, qualcosa è andato storto, come rende noto lo stesso cantante sul suo profilo Instagram. La relazione con Giulia è giunta al capolinea tempo fa e di comune accoglie. Rimogliano un buon rapporto e trovano affetto l'un l'altro, ma hanno capito che non possono più proseguire i sogni. Irama si augura che il messaggio contribuisca a spegnere i contigli per tigolezzi e i pelini anche, che lo seguono più all'estero. Questo non è il suo modo. Perciò invita da scoprare le sue canzoni, a dirla tutta. I due non sembravano più così in sinfonia e da quanto si legge a Renan Chiuso da Olimprizzi. Infatti, stando alla sua versione, i due si sarebbero mandati da diversi fatti, giungendo alla chiusa di comune accoglie. Ma in un rispettivo periodo la fungola ha avuto vita molto breve. Da una parte la deve il rispare essersi ricongiunta col suo ex Andrea D'Amano. Dall'altra spuntano nuovi tigolezzi su Irana. La situazione sentimentale di Irana, artigliata l'avventura sentimentale con Giulia D'Amano. Sono venite fuori alcune voci di Irana con una nuova fama. Nello specifico, il settimana Spai ha pubblicato degli scatti che lo ritraggono con una ragazza. Si chiama Vittoria ed è stata legata in passato ad Andrea Zelletta. Attuale tronista di uomini e donne, i rumors si sono scatenati e, nelle scorse ore, sembra che delle foto li avvalorino. I due, mediante Instagram Stories, hanno lasciato intendere di essersi messi insieme. Attualmente entrando a Madrid, certi dettagli pubblicati ieri non sono affatto passati nel senso. Come si può evincere da ambo le stories, compare lo stesso recicliente a forma di Annelies sul tavolo sia di rama che di Cattolio. Questo dettagli ha fatto insorgere il web, che chiaramente pensa ci sia un ligame tra i due, avendo passato del tempo in reciclata campanile. Ma significa che si stanno prefintando le ultime su Andrea D'Amano e Giulia D'Amano. Il giornale, infatti, ha comunicato alcuni stati che immortalano la coppia in attivamenti, particolarmente lui. Quasi intenti a scambiarsi in base. Per ora nessuno dei due ha conformato e mi ha smentito lo sì. .